Falcone, anche quest'anno è stata realizzata l'undicesima infiorata con opere ispirate al tema del Sidoto, una sinergia nata tra parrocchia e oratorio parrocchiale Addo Palmisciano. Un contributo notevole lo hanno dato anche i bambini che frequentano l'oratorio e con l'arte del riciclo sono riuscite a realizzare la loro infioratina, utilizzando materiale di riciclo per mostrare amore al nostro pianeta, perché insieme possiamo fare la differenza. Finalmente quest'anno, dopo una pausa lunga, un po' di anni, perché nel 2019 è stata rappresentata per l'ultima volta l'infiorata, abbiamo ripreso proprio la tradizione dell'infiorata di Falcone, che è caratterizzata dalla presenza di tutte le associazioni presenti sul territorio. Quindi una bella iniziativa, tra l'altro quest'anno anche segnata da un tema particolare, che è quello del Sinodo, partecipazione, comunione e missione. Questo è il tema del Sinodo della Chiesa Cattolica che in questi anni stiamo vivendo. E poi anche l'altro tema che si inserisce bene, che è quello della visita pastorale, che come parrocchia abbiamo vissuto quest'anno. E quindi sono stati proprio rappresentati questi due simboli che richiamano a questi due eventi e poi i pannelli sono per lo più pannelli che hanno un significato eucaristico, perché sono appunto legati alla solennità del corpo e sangue del Signore. Quest'anno anche i bambini hanno fatto la sua parte? Certo, quest'anno c'è stata veramente una partecipazione molto significativa di tutte le età, anche dei bambini. I bambini sono divertiti a realizzare dei pannelli, tra l'altro oltre all'esposizione dei pannelli realizzati con le sabbie, abbiamo con il sale, abbiamo anche questi pannelli che l'anno scorso già erano stati esposti, realizzati ad uncinetto, dalle nostre uncinettiste, in particolare con una buona partecipazione dell'oratorio. E l'oratorio con l'Associazione delle Radici del Cuore, l'oratorio parrocchiale Aldo Palmisciano, insieme alla parrocchia che ha un po' messo insieme tutte le forze presenti sul territorio.